Ciao a tutti, sono Sansotta Giacomo, ho 24 anni e sono uno studente di Action Academy. Ciao a tutti, sono Maddalena Ladu, ho 20 anni e sono una studentessa di Action Academy. Ho scelto Action Academy perché oltre a prepararti molto bene a livello autoriale, offre anche molte altre materie, come ad esempio il doppiaggio, a cui sono molto appassionato. Ho scelto Action Academy perché mi ha colpito la professionalità e la serietà che vi è all'interno dell'Accademia. Io sono affascinato dal potere. Perché logora chi non ce l'ha? E allora mi chiedo spesso quale sia la mia dota, anche se non so mai se fare il quadro o la cornice. Invece so per certo che le persone passano tutto il loro tempo a cercare di rendere la propria vita invidiabile. Ok, vorrei fare una domanda. Perché hanno inventato l'identificazione di chiamata? A chi serve questo servizio? Per secoli? D'accordo, magari non per secoli, ma per tanti e tanti anni. La gente ha disposto al telefono senza sapere chi fosse. E per quanto ne so non è mai morto nessuno. Poi, per esempio, se la polizia voleva sapere che aveva fatto una telefonata, poteva rintracciarla. Ma chi sono io e la polizia? Un saluto a tutti e vi ricordo che sono aperte le audizioni per il nuovo anno accademico di Action Academy. Ciao!